La speranza è che comunque la politica faccia del suo meglio quando la andrà a discutere in Parlamento. Ho delle grosse perplessità e lo dico apertamente. Un compromesso politico per qualcuno, per altri invece solamente un rinvio alle valutazioni del Parlamento che entro i prossimi due mesi si dovrà esprimere. Fatto sta che le linee guida contenute nel provvedimento che determina il destino delle concessioni balneari sono state diramate ed una cosa pare essere certa, lo stop al regime di proroga come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato del 20 ottobre scorso e dunque dal 1 gennaio 2024 le concessioni balneari saranno messe a gara. Abbiamo messo in condizione a tutti quelli che vogliono provenire anche dall'estero di impossessarsi le nostre coste, senza considerare poi i benefici che invece arrivavano dagli attuali concessionari. È un esproprio secondo lei come qualcuno ha detto il rappresentante della politica che ha aperto le porte alle grandi multinazionali? Diventa un esproprio nel momento in cui ti viene tolto dal giorno alla notte perché qui si sta parlando dal giorno alla notte perché la sentenza del Consiglio di Stato annulla una norma, una legge che comunque era dello Stato. Il testo dovrebbe prevedere una norma DOC per regolamentare il bando secondo la quale per avere la concessione è necessario dimostrare di essere realmente intenzionati a migliorare il servizio con l'intento di supportare gli investimenti, stimolarli e tutelare chi li ha fatti, sostanzialmente un modo per salvaguardare gli interessi legittimi dei proprietari dei piccoli stabilimenti. Cosa fondamentale che è il principio di reciprocità. Io concessionario dei maniare italiano, perdo il mio stabilimento e voglio fare una gara in Spagna, non la posso fare. Un altro nodo della spinosa vicenda riguarda i canoni troppo bassi che, a detta di molti, restano un problema radicato. Le subconcessioni lucrose, assieme alle proroghe, avrebbero infatti garantito minima concorrenza e minimo rischio di impresa per svariate migliaia di concessionari, oltre alla prerogativa per gli stessi concessionari, ripresentare ricorso a subconcessioni. Lo stabilimento balneare non paga il canone e basta. Lo stabilimento balneare paga tutta una serie di addizionali che sono derivanti da quello che è il canone. Sono 200 euro al mese per 2.500 anni, più o meno. Ma non pagano, perché mediamente, faccio un'ipotesi, uno stabilimento balneare a Lido di Camaiore di 22 metri di fronte, quindi uno stabilimento piccolo, una piccola concessione, ne paga 7.500. Siamo su questi livelli, perché in questa cifra qua entra anche il canone che viene impagato all'imposta regionale del governo, dello Stato, quindi c'è due tipologie di canoni.